Vi chiedo di non giudicare la postazione di questa settimana, sono in trasferta e sto registrando da tutt'altra parte rispetto a casa mia. Milota identificato, Milota 2. Vai, pollo piccolo! Troveremo pesce a questo giro? Non lo so. Sì, allora... Beh, sei molto... C'è nessuno lì! Pesce! Chicken little! Ops! Pesce! Come facciamo a tirarlo fuori? Forse è uno di questi pulsanti? Sì, ma quale? Deve essere quello blu. Tic! Non è mai il rosso. Il rosso è male. Il blu è bene. Oh sì, sì! Proprio come in tv! Quando c'è una bomba... Ma c'è il disegno di Chicken Little là sopra, vicino alle chiande! Ha ragione! Bene, e allora blu sia! Vlup! È sparito! Lo abbiamo ucciso! Abbiamo ucciso pesce! No! No! Pesce! Surf nelle tubature. Aiuta pesce ad attraversare le tubature aliene. Salta e spara. Mi ricordo un livello simile In un gioco di... Di... Di Sonic Era tra l'altro un minigioco sull'Ei Toy Play In Siga Superstar Attenzione Ok Volevo esattamente... No, da capo! Volevo esattamente vedere se potevo Saltare oltre I... I come si chiama? I segnali Allora, insomma posso ma Non ha senso perché poi potresti cadere di sotto Va bene Non sembra difficile Più che altro Mi chiedo a cosa dobbiamo sparare Dobbiamo Seguire Le ghiande Per evitare tutti i fulmini Weehee! Ah ok Ci sono i soliti... Ma a parte che mi... Che sono... No, no Pesce! Stavo dicendo Sono... Oh Ming I proiettili Vedi? Io l'ho sparato E lui parte Va... Va all'infinito per il tubo Di nuovo Quanto mi frega ogni volta Sta zona lì Weehee! Tony Hawks Figa Allora sai cosa Adesso già Dopo di questa Mi sposto Già a sinistra Perfetto Questo livello non è male Anzi per essere un gioco PS2 Avevano Ideato Oh Dio mio Un bel sistema Comunque di Di movimento Tridimensionale Mi butto di sotto Per prendere la figurina Di movimento Dicevo Tridimensionale Sia sopra Che sotto Che tutto attorno Sembra una cagata Ma guarda che è una cosa Fatta bene Per essere un gioco No Io volevo Va bene Dicevo Sembra una cagata Ma è una cosa fatta bene Per essere un gioco PS2 Dedicati A un pubblico Prettamente Di bambini Eh Lo so Per fortuna Ci fa Riprovare Dall'ultimo checkpoint Quindi Eravamo Vicini E a proposito Ecco qua Perfetto Che poi con questa qualità Oh È fatto Veramente bene Non ho nulla da dire Su questo livello Che di solito Non apprezzo Questi tipi di livelli Ad autoscorrimento Tra virgolette Che tu devi solo Indirizzarlo Destra e sinistra O fagli evitare Gli ostacoli Ecco fatto Preso Figurina Presa A quanto siamo? Due su cinque Perfetto Ecco qua Più che altro Sei Ah Cavolo Dicevo Più che altro Sai cosa? Che non vedi Dove sono le figurine In queste In questi livelli Cioè Non hai modo Di anticipare Devo già andare a destra Come Devo andare Già a sinistra Come facevi con Aldo Nel livello Precedente No Uff Ok Di nuovo le ventole No Pesce Oh Bravo Perfetto Guarda Sono i Kiros Veramente Perfetto Tre su cinque Ce ne mancano Solo due Perfetto A parte che Ste tuba Io Lo ripeto Ma quanto grande È sta Nave aliena Veramente Guardala come si espande Cioè siamo nell'universo No E volevo saltare su quello Non avevo Realizzato che Che prima sarebbe finita Dicevo Siamo nell'universo Dove cazzo Stanno andando Ste tubature Ecco qua Bu Aia Eh qua speravo di passare in mezzo Qua ci ho sperato Ecco fatto Eccola lì la figurina Eccola lì la figurina 2 1 No Troppo presto Pesce buttati di sotto Buttati di sotto Mi dispiace Ma voglio prenderle Tanto anche se adesso Perdiamo quell'ultimo Uovo Il checkpoint È proprio qui Quindi Non mi Preoccupo Neanche troppo Cavolo Ero sicuro di aver fatto Il tempismo giusto Invece Proprio all'ultimo Devo farla Presa Perfetto Guarda C'è pure una stella cadente Dove cacchio siamo finiti Allora aspetta Ecco Lo sapevo che se cambiavo C'era una figurina Perfetto Dovremmo essere arrivati alla fine Se Non moriamo adesso Ah proprio Qua In faccia Dritta proprio Mamma mia Vabbè Ormai le figurine le ho prese Quindi Posso andare tranquillo Proprio su Quest'unica Rotaia Senza dovermi preoccupare Di saltare A destra e a sinistra Per prendere gli oggetti Che mi mancano Però guarda i proiettili Oming Ecco qua Oì Le ghiande però Prendile Va bene che Tanto ormai siamo a fine livello E non mi servono più però Ma dai C'è pure l'iperspazio Grazie Pshuuu 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 Pshuuu